Sto registrando Sto registrando Ah Sei pronto? Da quanto tempo? No, non sono pronto Non sono pronto a tutto ciò Ed oggi ci troviamo davanti alla sfida definitiva I Super Mario Maker 2 Dove giocheremo i vostri livelli E ad ogni nostra morte insieme Quando moriremo entrambi Ci mangeremo un pezzettone di sushi Ovviamente abbiamo due confezioni Abbiamo già la salsa di soia Salsa di sos La salsa di sos Dentro il vassoiettino di sos Cos'è sos? Sos non è stato salsa Meme Tuffiamoci immediatamente all'interno dei vostri livelli ragazzi Ma prima di iniziare vi ricordiamo Che in descrizione trovate tutti i nostri socials Metto anche il tuo instagram Anche se non fai video A posto Ci sta Ovviamente il mio telegram per sconti Instant gaming se volete Prezzi convenienti sui giochi e via dicendo E ovviamente nel box dei commenti Inviatemi i vostri livelli Perché oggi giocheremo altri vostri livelli Ma prima di giocarli insieme Perché andremo a giocarli insieme Con la bellezza di due pro controller Voglio flexare e giocare un livello di pappagallo azzurro E finirlo Solo qui End game Game over L'abbiamo giocato in live su twitch Ci ho messo due ore a capire come funzionasse Nel frattempo che pappagallo mi spiegava tutto E vi assicuro Non c'è nulla di più soddisfacente Di farlo alla prima Io avrei già un po' di fame Ti posso imboccare il mio pesce? L'ho comprato solo per te E' caduto Ma parlami un po' di te Cos'hai fatto questo periodo? Niente ho giocato A cosa? Ultimamente Apex Ok Ultimamente Dead Cells Ok bello Dead Cells Ultimamente Sempre come al solito The Binding of Isaac Lo sai Ci sto troppo male con quel gioco Quindi No ma tu non ci giochi a quello No vero Non c'ho mica 8000 ore su Isaac Non avevo maledetto Ero tipo What? Guarda la parte difficile Perché fino ad adesso è stato facile S*** 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 Made it Luigi Made it E adesso Dopo questa flexata Velocissima Andiamo a mangiare Il pesce Per voi Mi cerchi come si fa? Non lo so fare Forse gioca in rete A noi Ah no ho trovato Mmm Mmm Ma porca miseria Intuccia che Porca vacca E' un mattone Più lungo Cioè devo trovare il livello Scaricarlo e mettere l'opzione di giocarlo col mio amico E' una fetta di Scarichiamo il livello di Nico My first level Grazie mille Nico Per averci dato Il tuo primo livello Lo proviamo con molto piacere Old style Old school Old school Ci piace Eccolo eccolo Gioca insieme Ci sei anche tu Vai Sei pronto Sostanzialmente Con questo corri Tendolo premuto E con questo qua salti Fine Non serve altro in questa modalità Tu sei Luigi Grande bro Grande bro Oh c'è Kamek Hai risvegliato Kamek Uuuuuh Vabbè Ma che pro Ah Non Siamo già morti Len E' tempo di pesce Me Me A te l'onore di Inzuppare Vai inzuppalo Inzuppalo bene Bella raga Buon appetito Porca vacca Quanto è pesante Non è male Però è duro Io vado col salmone Perchè A me il salmone non piace Ecco Cioè non è che non piace Diciamo che Uno mi basta e mi avanza I like E' iniziato bene questo video Inziamo bene Ma appetito E cominciamo da capo Ah non prendiamo quello Che c'è Kamek Ok no non andare Oh I'm big Siamo grandi Siamo grossi Allora aspetta aspetta Non fa niente Però fa ridere Guarda la tua faccia Pop Ben tornato Che piccolo Biii che piccolo Ah Sono morto again No 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 Perché c'è quel micro lag di schifo Raga io lo prendo stavolta senza la salsa di soia Poi io mi mangio quello con tipo credo il branzino Raga questa è la prima volta che mangio sushi Alle 6 e 10 di pomeriggio Sei pronto? Vai Ok Goomba aspetta lancio il guscio Fuck off E ci ricasco sempre T'ho schiacciato io Facciamolo con calma perché là ci sono i tuomp Salta Vai vai corri corri Quello non c'era prima Quello non c'era prima Ok vai Ora sappiamo dove sono i tuomp Ah corri corri tantissimo Corri andiamo 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 Corri salta 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 No Aspetta sto arrivando sto arrivando Liberami Ah grazie Oh oh nice Nice Spara spara Eh C'è Bowser c'è Bowser Oh checkpoint Stiamo attenti Stiamo attenti Bowser non lo puoi seccare colpa Spara tu spara tu spara Non ne ho più non ne ho più Cazzo No stati Cosa stai facendo Stavo andando di prenderlo Fai tutto bro vai vai tutto Io lo distraggo bro Vai spara spara Non puoi Non posso più spararle Non puoi saltarli No bro ma tu sei power io non più Io sono entrato No e mi trascini Oh 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 ah meno male Ah Corri bro corri 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 No Oh yes No Ehi No 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 Vai avanti Vai avanti Cos'è? È la chiave Come la prendi? Come si può prendere la chiave? Non ha senso Prova ad andare alle piante Sconfiggile Sai cosa? Ho capito qual è il problema Dobbiamo sconfiggere Bowser Sì, 100% Non c'è bisogno Però non c'è andare Fuck Perché mi cambi la telecamera tu? Plebeo Vedi? Plebeo Eccola Cioè praticamente Ho preso io Ladro Lel Sì Non premere quella cosa? Rimani lì dove sei? Fuck off Ok puoi venire Cosa fa quella cosa? Non lo so No È la chiave ce l'hai tu È la chiave ce l'hai tu Prova a saltare Sono incastrato Sono incastrato Oh 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 Nice Nice Fuck off Fuck off Sei serio Aspetta aspetta Non andare Sì 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 Non so Fermo po' Fammi respawnare Fammi respawnare Fuck off Perché non è finito? Devi arrivarci pure tu Come faccio? Ah no Ok Ho finito io il livello Sarà bugato Oh mio dio Che livello Non era tipo difficilissimo In due In due Non ci so giocare Ma in due Ma guarda se lo gioco da solo lo finisco in due secondi Ma è difficile perché tipo se mori tu io ho quel lag di un secondo Dove? Boh Cose Va bene dai 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 ci stava però Mamma mia pizzeria Andiamo Ok Bro Devi spinnare Ok Allora In questi livelli a volte si spinna In questo caso Se l'hai premuto o premerei più volte? Scusa Avevo voglia di sushi Onesto Mi sembri onesto Tu o mio Cosa vuoi? Il verdurino? Ah stavolta prendi quello Eh va bene Verdurino Vuoi inzuppare? Sì Prego Inzuppa pure Duro E' buono Il verdurino fa schifo Mi devo le fare No Ti porto con me Ci vieni da me per favore Oh my gosh Oh my god Oh checkpoint Come sei magnanimo tu che hai creato questo livello Mi fa morire il tu 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 No Fuck off Fuck off Fuck off Affanno Chi è il king qui? Tu Mario Number one Eh perché Questo cristo di gioco Quando tu muori Ti mette Tre Tre secondi di delay Tutto si ferma E tu sei così in aria Guardi tuo fratello morire E sofferire Sofferire Il prossimo livello è di Marietto Che su youtube si chiama Mario Ci ha smollato questo Livello 21 minuti fa Così Easy proprio E voglio provarlo E capire quanto sia bello E morire Insieme a Beto Su il traguardo parmiato Tutti i miauser Miauser No bro No Miauser No Eccomi Fuck off Ma what Bro Che infame è quello che ha inventato questo livello Molto semplici questi livelli in due E qua come dovrei fare Scusami Come questo si arriva Lì Vuoi vedere che qua sotto c'è una cosa Nah Aspetta però Ho capito il motivo Io c'ho il power up di Luigi Ma Cioè di Luigi Sì 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 Allora rimani qua Regal delirio Salta Aspetta allora Andiamo Vieni Vedi che c'è quel delay di 8000 secondi No No E vabbè E vabbè ci tocca Ti lascio l'onore di avere il gambero Ehm Oh yes Oh yes Mi è tutto questo Dove dovrei andare Oh 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 Signori Vai tu sopra No tu vai Sì sì vai vai Via Figlio di Continua 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 Salta lì Sblocca mi sblocca mi sblocca mi No Hai tolto il power Scendi giù scendi giù Devo saltare lì Devo saltare lì Bro 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 Prendilo 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 Aspettami lì Assolutamente Lì Grande Aspetta aspetta eh Salta Grandissimo Grandissimo bro Oh Aspetta eh Oh fuck off No Grande grande Spamma spamma Prendimi lì Prendimi lì di nuovo Vabbè Non me la dai più power up Grazie Ah Jesus Christ È un gatto È Mnowser Yes 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 Mamma mia Grande bro Che fatica Grande bro Grande bro Basta 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 In due È difficilissimo Sì concordo Basta È un casino Stop Vi ringraziamo tantissimo per la visione ragazzi Ma questo video Finisce qua Vi ricordiamo che in descrizione trovate tutti i socials Telegram Instagram I link per comprare questo gioco Qualsiasi cosa di utile E nel box dei commenti Inviatemi altri livelli Perché nei prossimi episodi Li giocherò volentieri Ringrazio Beto Per averci aiutato a superare i livelli di oggi Per l'invito Trovate i socials Anche suo in descrizione Mangiata OP Mangiata OP Ci mancano due pezzi Ma ragazzi Li mangeremo adesso con calma Grazie mille per la visione Ci vediamo in un prossimo video Alla prossima Alla prossima